Cari amici, in questa splendida giornata di sole di fine marzo, celebriamo la primavera. Eccoci quindi in primavera, il terzo capitolo della nostra carrellata nelle stagioni dell'anno. Abbiamo visto l'autunno, abbiamo visto l'inverno e la primavera e vi ricordo sempre che ognuna di queste stagioni è correlata da un libretto che abbiamo fatto nelle nostre edizioni che parla appunto della primavera, primavera stagione di allergia sì, ma anche di depurazione. Quindi primavera, vedete, è bellissimo, sentite questi uccellini che ci inguettano, questo è la natura, veramente rinasce, primum verus, ecco, ci sono tantissime tradizioni in questo. I romani per esempio, i figli che nascevano in primavera, quando poi arrivavano a vent'anni, dovevano andare via dalle loro città e fondare nuove città. Quindi c'era il rito della primavera, partivano questi giovani ragazzi e ragazze con il loro sacchettino, si allontanavano dalla città e fondavano nuove città. Quindi primavera è un momento di espansione, espansione della natura che cresce, un momento di espansione anche della civiltà, in quei momenti in cui la civiltà e le nazioni erano forti, le feconde, ecco questo è il concetto, quindi primavera, fecondità. Tra l'altro volevo dirvi che la primavera è un, come il concetto delle stagioni, è un fatto astronomico, quindi dobbiamo guardare un po' in alto, dobbiamo guardare il sole per capire le stagioni. Quindi il sole, se noi pensiamo, anche se noi sappiamo da Galileo che siamo noi che ruotiamo intorno al sole, però pensiamo agli antichi un attimo. Gli antichi appunto vedevano il sole che ruotava intorno alla terra e studiando la rotazione del sole avevano stabilito le stagioni. E d'altra parte c'è un discorso molto interessante di tipo matematica, il sole in queste ideale rotazioni intorno alla terra crea un'elisse in cui ruota intorno alla terra. In queste elisse avremo degli equinozi e dei solstizi. L'equinozio è il momento in cui il sole è più inclinato e va praticamente a coincidere con l'equatore di queste elisse. Il solstizio invece è il punto più alto, il solstizio d'estate, e più basso, il solstizio d'inverno. Quindi è un discorso molto matematico, tanto che noi sappiamo che le stagioni, sappiamo che l'anno solare è di 365 giorni, 8 ore, 50 minuti e vari secondi, quindi non è esattamente 365, quindi ci sono state nella storia varie correzioni, una l'ha fatta Giulio Cesare per esempio, perché è stato nel senso che il calcolo 365 giorni non è esattissimo, quindi Giulio Cesare prima, Papa Gregorio successivamente hanno fatto questo riaggiustamento in modo che sia questa convenzione 365 giorni. Però anche le stagioni non sono uguali, non sono dei giorni fissi, noi sappiamo che l'asse terrestre varia continuamente, anche il modo in cui il sole gira, il sole si presenta entro la terra, varia. E quindi vedremo che le stagioni sono un po' diverse l'un dall'altro, per esempio una cosa interessante è vedere che l'estate, per esempio in questo periodo storico in cui noi stiamo vivendo, è la stagione più lunga, è di 93 giorni per esempio, e qualche minuto è così. La primavera per esempio è di 92 giorni, viceversa invece l'autunno e l'inverno sono di 89 giorni e l'inverno in questo momento è la stagione più breve. Nel corso del tempo la variazione dell'asse terrestre rispetto al sole fa sì che le stagioni cambiano la loro temporalità. Nel 1250 per esempio c'è stato un momento specifico in cui le stagioni erano tutte e quattro dello stesso identico periodo e nel 6840, pochi di noi saranno vivi per dirlo naturalmente, avremo di nuovo le stagioni dello stesso durata di tempo. Quindi è molto interessante questa connessione che dobbiamo fare tra l'osservazione della natura e il sole tra la nostra vita, i cambiamenti che dobbiamo porre in noi per esempio in primavera, in notturno, in inverno, rapportarli con il sole come per esempio sto facendo adesso con il mio studio sulle diete che per esempio la paragonerò, le diete che avranno un ritmo mensile con il ritmo della luna. Ecco dobbiamo ritrovare questi ritmi che sono i ritmi della terra, i ritmi della natura. Ebbene addentrandoci nel bosco vediamo che sono spuntate queste bellissime gemme, vedete il nocciolo, butta fuori queste foglioline, queste gemme. Quindi cosa succede in primavera? Abbiamo visto che durante l'inverno la linfa della pianta, l'energia vitale della pianta si trasferisce verso il basso, trasferisce nelle radici. Se noi vogliamo per esempio usare delle piante molto potenti che raccogliamo in inverno dobbiamo raccogliere la radice. Durante l'autunno c'è questo passaggio, l'autunno e la primavera sono momenti di passaggio, c'è questo passaggio della linfa attraverso la corteccia dall'alto al basso. E in questo periodo noi abbiamo fatto vari video anche sulle cortecce di castagno, sulle cortecce di quercia eccetera eccetera. E' il momento in cui questa parte della pianta ha un ruolo terapeutico. In primavera abbiamo l'effetto opposto. Dalla terra, dalla terra dove la pianta ha riposato, dove si è rifugiata per proteggersi dall'inverno e dal freddo, la pianta riemerge, riemerge e butta la sua linfa verso l'alto. Vediamo per esempio una cosa bellissima che si fa in Canada. Si ricavano la linfa di betulla per esempio e così via perché lo zucchero di questa linfa è uno zucchero molto importante, depurativo e stupendo come cure primaverili. Quindi noi possiamo in primavera attingere dalle piante la linfa che sta andando verso l'alto. Oppure possiamo anche prendere le gemme, le gemme che sono quelle che sono il tredunion tra la pianta che ha riposato durante l'inverno e la pianta che poi diventerà grande durante l'estate. Quindi prima tutto era concentrato nell'inverno, si lente sotto la terra, durante l'estate tutto si si amplia verso l'esterno, verso il cielo. La primavera è un punto di passaggio. Ma in questo punto di passaggio abbiamo in queste gemme tutta una regolazione di quella che poi sarà la crescita. Ed ecco perché le gemme delle piante e tutta quella quella grande parte della fitoterapia che è la gemmoterapia è estremamente importante. Io uso moltissimo nella mia medicina le gemme, le gemme di pino, le gemme di nocciolo, le gemme di quercia. La gemmoterapia è un argomento molto interessante, lo troverete anche in vari miei libri, anche in un libro che sta uscendo prossimamente. Quindi la primavera è il momento della gemma, il momento della foglia, il momento in cui noi cogliamo dalla pianta il messaggio di costruzione, il messaggio di strutturazione anche del nostro corpo. Quindi quando vogliamo avere un indirizzo strutturante, non tanto un indirizzo plastico, ma un indirizzo strutturante, dobbiamo ricorrere a quelli che sono i germogli della pianta, le gemme della pianta. Questo è estremamente importante. Di questo naturalmente parlo molto nella Masterclass, nella Masterclass di cui vi invito tutti ad iscrivervi. Adesso in realtà le iscrizioni sono chiuse perché le riapriamo periodicamente, però mettetevi in distra l'attesa per sapere veramente tutto sulle piante, sulla natura, su come applicare la natura alla medicina. Iscrivetevi quindi a masterclass.ivobianchi.it e mettetevi in distra l'attesa perché è un percorso interessantissimo che completa tutto quello che diciamo nei nostri video. Adesso andiamo avanti un po' e vediamo per esempio qui i fiori della primavera, quelli di cui abbiamo già parlato in alcuni video. Vedete qui la primula veris, bellissima, la primula veris di cui io tante volte ho raccolto le radici che sono un meraviglioso calmante. Noi vediamo che in primavera il corpo anche si eccita, abbiamo i pazienti bipolari in primavera partono un po' di testa, quindi c'è l'eccitazione primaverile. La radice della primula frena questa eccitazione primaverile, è molto interessante questo concetto e anche questo preparato che in realtà ho ideato io, quello di usare la radice della primula. E poi vedete invece vicino alla primula troviamo l'epatica triloba, pianta bellissima delle ranuncolacee di cui si usano molto spesso le foglie, anche se sono dei video che ho fatto su questo argomento, è una pianta molto depurativa, molto importante sul fegato per prepararci poi alla primavera. Quindi bellissimo questo momento, questo sole, questa rinascita alla vita che ogni anno ci presenta alla natura con tutti i suoi simbolismi meravigliosi, quindi il bosco e la primavera. Leggiamo questo libro e cerchiamo il più possibile di aderire ai ritmi della natura. Adeguiamo la nostra vita, la nostra dieta, l'esercito fisico, la strategia terapeutica ai ritmi del sole e adeguiamo la dieta giornaliera ai ritmi della luna. Questo è molto molto importante per avere la salute, che la salute in realtà non è qualcosa di assoluto, la salute è un equilibrio, è un equilibrio e dobbiamo ottenere questo equilibrio. In questa continua variazione, vedete, varia la stagione, varia la lunghezza delle stagioni, la lunghezza del giorno, la lunghezza dell'anno e quindi non c'è un protocollo o qualcosa di fisso, c'è da mantenere un equilibrio e bisogna riaggiustarlo continuamente. Arrivederci al prossimo video.